Oggi presentate questo volume, l'ammiraglio Napoleone. Qual è il suo motivo? Dunque, Napoleone è un argomento infinito, non cesserà mai di essere oggetto di analisi. Risulta però difficilmente affrontabile questo specifico tema, cioè il rapporto fra il grande genio militare di Napoleone e tutto ciò che caratterizzò poi le campagne per mare della flotta francese, che non ebbero lo stesso successo nel tempo che invece ebbero le sue straordinarie vittorie sul piano militare e terrestre. In che modo si affronta la questione, cioè in che modo viene descritto Napoleone all'interno del libro? Quale aspetto del suo carattere, del suo modo di essere? C'è un secondo oggetto nel volume, che è un volume che presenta i contributi di diversi autori che hanno portato delle specifiche di interesse sull'aspetto militare e navale, sull'aspetto strutturale e logistico dell'organizzazione dell'impero e anche sull'aspetto dell'impatto della Toscana con il periodo francese e napoleonico in particolare. Quindi il secondo oggetto che è protagonista della scena è sicuramente la Toscana e nello specifico il porto di Livorno perché intorno agli interessi strategici commerciali e militari del porto di Livorno si giocarono lungo gli anni che precedono addirittura Napoleone che caratterizzano invece l'avanzata francese e poi con Napoleone gli anni che andarono appunto dal 1795 fino alla sua definitiva sconfitta.